ciao fragoline allora nuovo video prometto che questo video lo sto registrando praticamente il 27 di luglio perché dato che mi servono queste cose ho deciso di registrarlo prima così voi poi lo vedete verso non so se riesco verso agosto oppure se ne parlerà a settembre per cui quello che adesso vi farò vedere praticamente sono della levis sia per per lui e per lei ho comprato un po per me e un po per il mio ragazzo perché lui fa gli anni fa gli anni praticamente il mese di agosto e allora io ho preso qualcosina e dato che volevo fare questo video detto lo faccio prima perché non si sa mai prima di iniziare però vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina così non perdete neanche un solo video un bel like un commentino qua sotto e se volete seguite seguirmi su instagram vi aspetto lì le foto cioè le cose indossate le vedete sul mio instagram per cui se volete vedere qualcosa praticamente indossato basta seguirmi su instagram e li vedete tutte le foto di tutte le cose indossate faccio così perché così almeno non sto a farvele vedere su youtube ma ogni tanto ve le farò vedere anche su instagram divido praticamente le cose detto questo vi faccio vedere cosa ho comprato della levis c'era lo sconto praticamente se prendevi tre cose uno non lo pagavi se non mi sbaglio adesso vi dico i prezzi e vi dico quanto l'ho pagato allora facciamo così questa è la scatola allora ho lasciato qua c'è il come si chiama il foglio dove dovete fare il reso con praticamente le taglie e la via di loro praticamente il documento del reso non ve lo faccio vedere perché ci sono le vie eccetera e poi il documento della fattura che adesso vi farò vedere che praticamente questo vediamo se non ci sono e questo qua vi dico i prezzi iniziamo da da queste allora il mio ragazzo io ho preso un tanto poi questo video lo metterò dopo il suo compleanno per cui non prima perché se no sai i prezzi e tutto ma tanto spero che non guarderà questo video anzi non glielo farò vedere perché se no tanto vale comunque queste mutande due pacchi due paia di mutande praticamente l'ho pagata allora le mutande l'ho pagata 15 euro e 40 invece di 22 euro lo pagate 15 euro e 40 sono due pacchi due paia di mutande io l'ho presi grigie così con la scritta levis poi ho preso le ciabatte queste qua con il coso non so perché staccato queste ciabatte qua nere io le volevo rosse qui con la scritta levis ma dato che non c'erano allora sul sito allora alla fine glielo prese così glielo prese nere con la scritta levis queste qui costavano 25 euro ma io l'ho pagate 17 e 50 praticamente c'erano c'era lo sconto e che se non sbaglio era uno gratis e l'altro e gli altri due li pagavi quindi non me li ricordo perché l'acquisto l'ho fatto una settimana fa più o meno poi io ho preso la maglietta dato che lui le ha bucate quasi tutte io ho preso la maglietta della levis grigia per fortuna ha il cartellino perché certi non ce li hanno ovviamente non della levis ma dico nelle altre quando fai shopping online praticamente è fatta così semplice maglietta questa qui l'ho pagata 21 euro invece di 30 euro le magliette costano 30 euro io l'ho pagate 21 poi io ho preso un'altra maglietta scusate ma qui cioè non c'è scritto praticamente è tutto scritto cioè solo le se tu vai a vedere la taglia praticamente vai a vedere se quella è ovviamente trovi il prezzo ma la descrizione del prodotto è scritto talmente in in inglese che non si capisce che cos'è comunque io ho preso questa qua nera dato che ce l'ho anch'io la maglietta così nera che non ce l'ho indossata io l'ho voluta prendere e volevo prenderla anche per lui per essere diciamo uguali allora alla fine io ho preso questa maglietta qua nera semplice della della levis con la scritta levis questa qui l'ho pagata 21 euro sì 21 euro anche questa e questi qui erano praticamente gli acquisti che ho fatto al mio ragazzo per il compleanno invece per me ho preso solo due cose perché non volevo esagerare praticamente allora per me mi sono comprata la maglietta sbracciata così che ovviamente la devo provare ma queste due cose le proverò su instagram per cui farò le foto e voi le vedete sul mio instagram se volete vederle indossate praticamente è sbracciata così è praticamente bianca fatta così con la scritta levis dato che io non ce l'avevo sbracciata così allora lo volevo lo volevo prendere questa qua l'ho pagata 17,50 invece di 25 euro se non mi sbaglio perché gli sconti qua non me l'ha scritti mi ha scritto solo il prezzo per cui 17,50 euro che è anche carina la devo provare poi la proverò e farò le foto invece sempre per me l'ultimo acquisto ho preso la maglietta grigia fatta così io pensavo l'ho preso uguale alla sua però pensavo che non aveva questi puntini qua questa è mia giusto? prima che prima che sbaglio e dico no è mia ma in realtà poi no questa è mia giusto perché le taglie sono diverse lui porta una L per cui sono diverse le taglie ed è fatta così cioè con questi puntini grigi cioè è diversa dalla sua però sempre con la scritta levis normale semplice così infatti infatti adesso vi faccio vedere la sua la sua è così è praticamente diversa non so forse perché fanno per distinguere se femmine e maschio l'hanno fatta diversa almeno che c'è la stessa maglietta come quella lì io non l'ho vista allora ho preso questa qua uguale alla sua già che c'ero ho detto ma sì chi se ne frega la prendiamo uguale praticamente in totale ho speso 113 euro e 40 dovevo spendere 200 euro se non mi sbaglio ma dato che c'era questo sconto che durava fino al 31 di luglio ovviamente questo video andrà dopo un mese per cui la promozione sarà scaduta però io grazie a questa promozione ho risparmiato un bel po' per quello che vi ho detto i prezzi e invece di pagare 200 euro ho pagato 113,40 per cui già come prezzo è già buono la spedizione è stata veloce ci ha messo quattro giorni me l'ha spedita in un giorno e in quattro giorni mi è arrivata praticamente non ho aspettato neanche una settimana per farvi capire e se devi restituire gli articoli che ovviamente non ti vanno hai 28 giorni per restituirlo vi dico questo perché se qualcuno interessato e vuole comprare online dalla Levis questa è la prima volta che acquisto della Levis però se siete interessati io vi dico queste cose qua poi invece l'intimo cioè le mutande eccetera non si possono cambiare quello ovviamente però diciamo che non si sa mai io ve lo dico comunque l'intimo quelle cose lì non si possono cambiare l'unica cosa che puoi cambiare sono le ciabatte e le magliette ho visto che ci sono tante belle cose c'è anche la nuova collezione io non l'ho presa perché sinceramente a parte che costava e poi non lo so non mi piaceva più di tanto e ho preso sempre le stesse cose e niente queste sono le cose che ho comprato spero che ho detto tutto sì perché nel pacco troverete sia la fattura del documento di trasporto e sia la il foglio del reso in cui potete fare il reso per cui trovate queste cose qua fatemi sapere se voi avete acquistato della Levis come vi siete trovati e se volete un altro shopping dove io compro dalla Levis però la nuova collezione vediamo se se ci sarà qualcosa più avanti verso settembre ottobre se ci sarà qualcosa che mi piace fatemelo sapere detto questo noi ci vediamo al prossimo video mi raccomando lasciatemi un bel mi piace e un commentino qua sotto e se non siete iscritti al mio canale iscrivetevi le foto le vedete sul mio instagram se volete vedere come mi stanno queste due magliette perché poi vabbè le altre cose che sono del mio ragazzo ovviamente non potete vederli detto questo ci vediamo al prossimo video ciao ciao